Prima di iniziare il video volevo invitarvi domani dalle ore 18.30 fino alle ore 20.30 circa in live sul mio canale in quanto seguiremo insieme l'ultima ora e mezza di mercato più mezz'ora di appendici per ed eventuali ovviamente avrò con me come ospiti sicuri Pietro, va a dire Mr. FM e il mio amico giornalista from Scotland Salvatore Boemi sto cercando di portarvi a qualcun altro, insomma speriamo bene, quindi vi aspetto domani sera in live e così avvenne che il Torino in poche ore ha fatto ben due acquisti e stiamo parlando appunto di Okereke e di Masina che entrambi approdono rispettivamente da Cremonese e Udinese al Torino in prestito con diritto di riscatto nessuno se lo aspettava fondamentalmente il mercato del Torino aleggiava insomma viaggiava in quel mare di tranquillità quando ad un certo punto boom boom doppio colpo e il Torino si assicura questi due giocatori quindi andiamo un attimino a parlare di questi trasferimenti perché fondamentalmente nessuno se lo aspettava però entrambi hanno una loro logica in primisi il discorso di Okereke è comunque un giocatore dall'esperienza che comunque diciamo che non sta rendendo come quando ci aspettasse insomma inizio carriera ma comunque si sta dimostrando, si è dimostrato negli ultimi anni un attaccante comunque interessante e utile in una Serie A l'anno scorso se non ricordo male la Cremonese 38 presenze 9 gol e 2-3 assist quindi un giocatore che il suo lo sa dire il tutto contestualizzato in un'ottica cremonese l'anno scorso quindi è una squadra molto in difficoltà che comunque ha battagliato ma che alla fine è retrocessa e che è un attaccante che potrebbe fare molto al caso di Juric in primis perché può fare tranquillamente la seconda punta vicino a Zapata e penso che potrebbero formare un'ottima coppia se consideriamo Okereke una riserva di Sanabria o comunque un giocatore che si può alternare a Sanabria per un semplice fatto perché Okereke lui è partito come esterno poi insomma pian piano si è saltato a seconda punta, ha imparato il ruolo ma fa il gioco che secondo me potrà valorizzare anche Zapata perché ha quella mobilità, quella visione di gioco d'attaccante un po' atipico da seconda punta che non ha Sanabria e ti lega anche venire parte Okereke quindi secondo me sia nelle ripartenze che giocare sullo stretto magari con un Zapata che mi occupa più l'area di rigore e un Okereke che gira attorno ecco secondo me potrebbero fare una bella coppia inoltre voglio anche azzardare che in situazioni un pochino più particolari dove magari il torneo deve più attaccare, deve essere più offensivo ecco potrebbe tranquillamente formare un tridente diciamo a triangolo appunto con le tre quartiste e due punte che potrebbe essere tranquillamente un Okereke dietro che ti leghi le parti appunto nonostante Okereke non sia proprio una mezza punta ma quell'istinto all'entrata sul campo che può valorizzare gli attaccanti è un attacco pesante come Vlasic, scusate come Sanabria e Zapata ho detto Vlasic insomma è stato un po' un lapsus perché comunque Okereke potrebbe fare sia la riserva di Vlasic che eventualmente sostituisse Sanabria quindi vedo questo acquisto molto intelligente soprattutto perché comunque non è vecchissimo Okereke è una buona esperienza è un attaccante che sa dire appunto la sua fisicamente regge anche a livello di velocità e lo vedo in un progetto tecnico ecco un giocatore come lui secondo me quello dovesse rendere bene quello dovesse essere riscattato potrà tranquillamente far parte del torneo del futuro un ragionamento differente si può fare appunto per Masina che è un mancino lui fondamentalmente è nato come terzino di sinistra dopo si è adattato un pochino a fare il braccetto di sinistra soprattutto perché negli ultimi anni è stato veramente falcidiato dall'infortunio nonostante comunque sia un 94 quindi quest'anno fa 30 anni però viene veramente da un lunghissimo infortunio e quindi su di lui dubito un pochino su quella velocità, su quell'esplosività che aveva inizio carriera ecco perché molti anche sotto gli ultimi commenti hanno lanciato una perplessità sul discorso che possa fare il braccetto come riserva di Rodriguez o come esterno onestamente come esterno sinistro la vedo un po' difficile ma appunto perché viene da tanti infortuni quindi secondo me le sue capacità aerobiche sono un pochino calate seconda cosa perché è un giocatore d'esperienza è un giocatore ex terzino così come Rodriguez ed ecco che un Masina lì eventualmente come riserva di Rodriguez avrebbe lo stesso gioco di Rodriguez quindi magari si avrebbe portato più ad avanzare piuttosto che come era fatto tempo fa magari che se non giocava Rodriguez veniva messo buongiorno aveva due stili gioco diversi Masina messo lì e se appunto un terzino c'ha quella gamba c'ha quelle capacità offensive che magari non ha tutto campo però può accompagnare l'esterno può accompagnare insomma la manovra d'attacco quindi sono due operazioni che io giudico molto positivamente e che sono anche economicamente molto favorevoli per il Torino perché ripeto i prezzi non stanno sicuramente esorbitanti due giocatori da valorizzare uno un po' più pronto l'altro magari un po' più riserva appunto come Masina però due colpi che secondo me potrebbero essere molto 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 utili al Torino tanti di voi mi hanno chiesto anche di Derrick Köhne il terzino sinistro classe 99 dell'Hannover che è una formazione che milita nella Zweite Bundesliga e quindi non vi faccio proprio una presentazione anche perché la situazione è ben chiara Soppi è un esubero e dovrebbe risolversi il prestito cioè sarebbe da risolversi il prestito il giocatore tornerebbe all'Atalanta per poi trasferirsi sembra in Germania però insomma c'è da vedere le tempistiche perché tra il discorso di sciogliere l'accordo per Soppi e ammesso che Köhne sia così vicino si rischia un pochino di andare per le lunghe anche perché la situazione tra Nouvelle e Torino anche in questo caso è chiara il Torino vorrebbe il giocatore in prestito con diritto l'Hannover vorrebbe cederlo definitivamente una via di mezzo potrebbe essere un discorso di prestito con diritto che si può tramutare in obbligo ora in base al numero delle presenze in base al posizionamento in classifica e la cosa che andrebbe a favore del Torino è il discorso che comunque il giocatore ha il contatto di scadenza il 30 giugno 2025 comunque con 180 cm dal 2022 all'Hannover dopo l'esperienza del Wilhelm Zweig in Olanda un giocatore forte fisicamente 180 cm tedesco di origini ganesi titolarissimo 3 gol e 4 assist che ha giocato in questa stagione nel 4-3 1-2 dell'Hannover e un terzino che in parte mi ricorda un Asamoah però con più tecnica Asamoah era diverso fisicamente perché comunque era più bassino più tozzo mentre diciamo che dall'alto del suo metro 80 Kön è un po' più affusolato però comunque quadricipiti forti bella corsa potente lievemente pesante però ha veramente una bella gamba anche perché non è un brevilino un normolineo ha una bella corsa una sana ignoranza forte nei contrasti che ha giocato sia da esterno completo che da terzio-sinistro a punto di difesa 4 e secondo me immaginando un'ipotetica catena con un Rodriguez barra un Masina come Braccetti e con Kön come ala tutta fascia beh potrebbe essere una catena di sinistra di gamba di forza fisica e di esperienza quindi secondo me sarebbe veramente un bel upgrade rispetto a un Lazaro in quella porzione di campo inoltre piccolo fan fact il giocatore gestito dalla EMG Mundial Sports società di agenti che ha tanti rapporti presenti e passati con l'Italia infatti gestisce i giocatori come Saliucian come Tolian come Ayan come Toure del Pisa come Pedroia della Samp come Yalcin giocatori in prestito dal Genoa e poi anche con Regunter ovviamente quella poi dovrà salvare Kön presumo che Masina farà sicuramente il braccetto e si altererà con Rodriguez Kön a sinistra magari con un Lazaro lì a sinistra che si altererebbero quindi avere un mancino un destro di piede e sulla destra mantenere comunque un Bellanova e un Vojvoda se poi magari Juric si fida più di Vojvoda gioco forze che magari Vojvoda avrebbe considerato sulla sinistra far coppio con Kön e Lazaro andrebbe a finire a far coppio sulla destra con Bellanova con un soppì che va ad abbandonare appunto il Torino per accasarsi altrove contando che ha deluso anche a me ha deluso un po' soppì mi sarei aspettato le prestazioni un po' migliori ma la situazione è questa qui quindi ho tentato di unirvi le mie impressioni a una brevissima presentazione di Kön per farvi capire il modo in cui potrebbe adattarsi al Torino darebbe gamba sostanza forza fisica cattiveria agonistica e anche un bel tiro ovviamente anche una discreta sensibilità del colpio di sinistro ergo magari qualche cross in più in mezzo all'area arriveranno quindi insomma anche quello sembra un qualcosa di buono e giusto perché al Torino stanno veramente tanto mancando i cross soprattutto a sinistra dove entrambi i giocatori devono perdere un tempo di gioco perché il sinistro Vojvoda e Lazaro conoscono soltanto percorrere quindi puntualmente arrivi sul fondo devono entrare sul destro e poi crossare in mezzo perché col sinistro ci sanno fare ben poco quindi Kön sarebbe sicuramente un upgrade ovviamente non è più il caso di pensare ai nomi passati come Doe come questi qui potrebbe arrivare Kön intanto ve la butto lì chi è questo Kön e poi si vedrà insomma in futuro perché il rischio appunto è quello di essere troppo ostetti con le tempistiche si rischia magari di lasciare andare un soppì e poi non trovare un accordo con la Nova per Kön in quel caso ecco magari un Rodriguez o un Masina farebbero il gioco con la sinistra e magari come centrale se proprio rimani un po' scoperto magari da più fiducia a Ginetis a centrocampo e adatti magari Tamez come braccetto di destra quindi quantomeno a livello numerico con un lovato che arriva contando che appunto non avevo detto è arrivato pure anche lovato quindi insomma il reparto offensivo si sta un pochino ripullulando di giocatore con quel famoso sesto difensore centrale che da un po' di tempo manca dopo l'addio di Izzo e comunque si configurerebbe così a destra Gigi lovato in mezzo buongiorno e Salzanov perché lo stesso Juric ha detto che si fida di Salzanov come difensore centrale e io sono pienamente d'accordo ve lo disse anche nel video di presentazione il calciatore a sinistra Rodriguez e Masina con Zima che suppongo che nelle prossime ore partirà si starà a vedere se tornerà in patria o se andrà a giocare in qualche altra nazione ovviamente fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate voi di questi acquisti quindi in primis Masina secondo me operazione top a livello economico e come riserva di Rodriguez o che reche operazione top a livello economico e soprattutto perché darebbe un qualcosa in più secondo me l'attacco soprattutto dopo l'addio di Sek di Radonich e con un Sanabria che segna un po' poco con un Vlasic che è un po' di scontino quindi potrebbe dare una mano a livello di caratteristica a Zapata e poi questo ipotetico arrivo di Kern anche in questo caso secondo me è una buona operazione potrebbe essere dipende poi sempre dai costi ma in prestito con diritto che si potrebbe trasformare in obbligo secondo me sempre qualcosa di ottimo ripeto qui sotto nei commenti fatemi sapere la vostra vi mando un abbraccione e ciao al prossimo video ciao ragazzi